La partita è importante perché se non conta ai fini della classifica per quello che è successo nelle giornate precedenti, conta moltissimo ai fini della stagione, perché dobbiamo chiudere vincendo, perché dobbiamo chiudere vincendo in casa, perché nessuno deve vincere al Paratrento, comunque dobbiamo essere sempre solidi. E poi siamo a sette giorni dall'inizio del playoff, è l'ultima partita di alto livello, quindi perfetta, la considero come squadra, come partita, come evento per entrare nei playoff e per cercare di mettere in campo un po' le nostre caratteristiche tutte, in modo che nella settimana successiva faremo il taglio ai cuci per essere pronti poi per la serie playoff.